I problemi si risolvono facilmente, basta vincere e il Teramo vince il campionato. Non dobbiamo farci condizionare dagli altri risultati, dobbiamo pensare solo a noi come abbiamo fatto fino ad adesso e dobbiamo essere solo concentrati e cattivi e cercare domenica di battere il Ponte d'Era. Non sarà una partita facile, però abbiamo tutte le possibilità per riuscirci. Ripartendo magari proprio dal Teramo del secondo tempo che ha dato dimostrazione di forza, di carattere. Sì, nel secondo tempo siamo entrati in campo con una mentalità diversa. Avevate messo alle spalle il risultato dell'Ascoli evidentemente. No, sicuramente nello spogliatoio ci siamo dati una scossa, la sconfitta perdevamo quindi dovevamo reagire. Ci siamo anche parzialmente riusciti, però poi non abbiamo trovato il gol, però dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte nel secondo tempo. Ma consapevoli che possiamo fare sicuramente di più. La carica del pubblico che c'è stata a Prato e ci sarà forse, anzi sicuramente in maniera superiore, domenica in casa contro il Ponte d'Era. Quanto è importante? Sicuramente i tifosi sono dalla nostra parte, quindi ci possono dare una grossa mano, come abbiamo visto soprattutto nelle ultime partite in casa, dove erano numerosi. Quindi con il loro aiuto noi dobbiamo fare quello che ci dirà il mister in campo e quello che siamo capaci di fare e speriamo appunto di regalare una gioia a tutti. Secondo te domenica può essere la giornata buona? Questo non lo so. L'Ascoli comunque con questa vittoria sicuramente avrà acquisito un morale più alto, però noi giochiamo in casa quindi dobbiamo sperare di fare risultato e magari di avere risultati favorevoli dagli altri campi.